Le armi nucleari tempo fa venivano costantemente testate per provarne l'efficacia e la potenza di distruzione. Oggi andremo a vedere 5 test nucleari finiti male. Mettete come sempre mi piace la nostra pagina Facebook e seguitici su Infinito Now su Instagram per le ultime novità. Cominciamo allora. 1. Starfish Non importa dove, ma le testate nucleari sono in grado di fare danni da qualunque distanza e altezza. E così è stato per Starfish. L'operazione Dominic era un'operazione che consisteva nel lanciare in cielo il più in alto possibile una bomba nucleare chiamata Starfish. Bisognava testarne la potenza, anche ad alte quote. La prima volta fu sganciata e ci fu un qualche errore che ne impedì l'esplosione. E bisogna dire fortunatamente perché non era abbastanza in alto da non danneggiare città sottostanti. Ci fu però una seconda prova perché come sappiamo l'essere umano persevera quando si tratta di distruggere. Questa volta comunque funzionò perfettamente, esplodendo a 400 km di altezza. Nonostante la distanza riuscì a bloccare vari segnali come quelli radio e telefonici, che per qualche minuto rimasero completamente spenti nella zona dell'Onolulu, posto sopra la quale era stata fatta esplodere. Numero 2 Operazione Ground Zero Per quelli di voi che non conoscono il termine Ground Zero, eccovi un breve riassunto. Si dice così quando si vuole indicare il punto della Terra più vicino all'esplosione di una bomba nucleare, insomma il suo ipocentro. Praticamente il centro dell'esplosione coincide con quel punto sul pianeta. Gli Stati Uniti, tempo fa, volevano dimostrare al mondo che le bombe nucleari non sono così pericolose come si pensava. Per far ciò hanno creato l'Operazione Ground Zero che consisteva nel lasciare 5 persone sotto l'esplosione di una bomba che sarebbe avvenuta a 3000 km di altezza. Alcuni si offrirono volontari, tranne un povero cameraman che filmò tutto col cuore in mano, perché era stato costretto e non aveva nemmeno ricevuto degli occhialini di protezione. Perché doveva solo filmare le 5 persone a terra e non l'esplosione. Il test finì più o meno male, tutti i partecipanti sono vivi oggi ma soltanto perché non aveva sprigionato tutta la sua potenza la bomba, che a causa di un blocco esplose per metà, per dirla in termini semplici. Eh no, nessuno acquistò superpoteri. Numero 3 L'esplosione Plowshare Sicuramente quando si tratta di imparare dai propri errori l'essere umano non è il migliore, Questo possiamo capirlo dai vari test effettuati con il nucleare. Uno di questi si chiamava Operazione Plowshare, che consisteva nell'usare una bomba nucleare per creare un cratere che doveva servire a capire se si potevano usare questi strumenti per creare dighe, canali o porti o tante altre cose dove bisognava scavare buche. Ovviamente la cosa non finì bene. Insomma, abdire un buco gigante per terra con un'esplosione nucleare già dall'inizio non sembrava una bella idea. Tutto ciò che successe fu un disastro. Le radiazioni cominciarono a propagarsi per più di mille chilometri di distanza. Il 7% di quelle presenti negli Stati Uniti è stato provocato proprio da questa esplosione. I territori coinvolti maggiormente furono l'Iowa, il Nebraska, l'Illinois e il South Dakota. Il cratere Sedan, ora, è catalogato come il più grande mai creato dall'uomo ed è diventato una meta turistica per molti. L'operazione si svolse nel 1962. Numero 4, l'incidente in North Carolina. Il 23 gennaio 1961, un bombardiere B-52 dell'Air Force degli Stati Uniti aveva il compito di eseguire dei giri di routine intorno alle coste orientali. Partì la mattina da una base vicino a Goldsboro, in North Carolina. L'aereo trasportava anche due bombe all'idrogeno dalla potenza di 4 megatoni. 4 megatoni vuol dire che sono quasi 250 volte più potenti della bomba sganciata su Hiroshima durante la guerra. Dopo circa 10 ore di volo, all'equipaggio venne detto che stavano perdendo carburante da un'ala e questa non era una bella notizia. Mentre erano in volo decisero di svuotare i serbatoi in un oceano e far cadere il bombardiere dopo essere fuggiti con i paracadute. Il piano funzionò a metà perché sfortunatamente tre persone rimasero a bordo per completare la fuoriuscita del carburante. Ma la cosa più spaventosa furono le bombe a bordo. Una si schiantò insieme all'aereo senza esplodere, distruggendosi in modo innocuo. L'altra invece cadde in un campo vicino a un posto chiamato Faro, sempre in North Carolina. Durante la caduta si attivarono i meccanismi per innescare l'esplosione, ma non tutti fortunatamente, visto che il paracadute attaccato alla bomba si aprì rallentando nella caduta e arrestando il violento impatto che avrebbe avuto con il suolo. 5. Lago Shagan Come detto in un punto precedente, alcune persone hanno provato ad aprire negli Stati Uniti un cratere gigante con una bomba nucleare, ma non sono stati gli unici. Durante un test finito male, la Russia ha creato per sbaglio un intero lago atomico. Il test si è svolto nel lago Shagan in Kazakistan. Nessuno si aspettava che si formasse addirittura un lago, ma la cosa più sorprendente è che la roccia superficiale del lago è diventata vetrosa. La radioattività ancora oggi è presente, ma le persone si fanno tranquillamente la doccia. Ovviamente agli inizi si sono stati ritrovati mostri di ogni genere. Beh, forse esagero dicendo mostri. Erano semplicemente pesci con qualche pinna o occhio di troppo. Ormai creature del genere non dovrebbero più esserci, quindi potete andarci tranquillamente in vacanza volendo. Con questo concludiamo. Molti altri sono stati test effettuati sul pianeta Terra e se volete vederne altri mettete mi piace al video e arriviamo ai 30.000. Alla prossima gente! Ciao!